Ecco alcune semplici misure per proteggere la vostra casa dalle zanzare con uno spray ad azione istantanea. Prima di tutto leggete la bomboletta. Lo spray uccide le zanzare? Se la risposta è sì, è il prodotto che vi serve. Chiudete tutte le finestre e porte. Allontanate persone e animali dalla zona. L'etichetta del prodotto spesso vi indicherà come preparare la stanza, come utilizzare e smaltire il contenitore esaurito. Per uccidere le singole zanzare, spruzzare velocemente il prodotto direttamente su ciascuna di esse. Per uccidere diverse zanzare, leggere le istruzioni per sapere da che distanza spruzzare su pareti, tessuti e mobili. Spruzzare nell'aria verso l'alto con movimenti ampi fino a quando la stanza è ben nebulizzata. Una volta terminato, uscire e non accedere alla zona trattata per circa 15 minuti. Ricordarsi di ventilare completamente la stanza prima di farvi entrare la famiglia. Adottare queste misure dentro casa è solo uno dei modi per proteggere voi stessi e la vostra famiglia dalle zanzare.